Interessante incontro dedicato alla resistenza in Abruzzo, quello che si è tenuto sabato scorso 24 ottobre presso i locali dell'archivio di Stato di Chieti e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Abruzzo Web TV nel rispetto delle limitazioni agli eventi pubblici legate all'emergenza Covid. A moderare l'evento il direttore dell'archivio di Stato di Chieti Antonello De Berardinis con gli interventi iniziali di Danilo Dorazio, sindaco di Civitella Messerraimondo e Piera della Morgia, presidente della sezione Ampi di Casoli a seguire l'intervento di Costantino Di Sante dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e di Francesco Di Cintio tra le novità espresse in maniera chiara e verificabile nel saggio di Francesco Di Cintio pubblicato nel maggio 2020 sulla rivista scientifica Giornale di Storia e nell'incontro virtuale odierno vi è l'utilizzo della documentazione governativa britannica del War Office per illustrare, comparare e infine trovare una sintesi tra le diverse narrazioni in seno al movimento resistenziale del sangue avventino sulle origini della Brigata Maiella. Tra i relatori principali di questa giornata all'archivio di Stato di Chieti Francesco Di Cintio che ha presentato degli studi davvero interessanti e che forse sembrano in contraddizione per alcuni versi sulla storiografia ufficiale della Brigata Maiella se ho ben capito, però ce la facciamo spiegare da lui la sostanza e il succo di questa ricerca. La documentazione governativa britannica del fondo War Office che è uno dei fonti più grandi per lo studio della Seconda Guerra Mondiale ci restituisce una nuova prospettiva di questo rapporto di cooperazione tra le forze e le unità dell'Ottava Armata Britannica e soprattutto i gruppi resistenziali che sono sorti nel sangue avventino a partire dall'autunno-inverno del 1943. Una cosa è certa che dal diario di guerra del Sesto Battaglione Royal West Contragement abbiamo una certezza, più o meno, non posso dire, non è bello dire matematica però abbiamo ragionevole certezza che Lionel Wigram arrivato in Abruzzo nel gennaio 1944 e attraverso un fitto scambio di fiducia ha intravisto nel gruppo dei patrioti di Civitella Messerremondo e soprattutto in Nick Williams che ricordiamo questo gruppo era identificato dagli inglesi come The Nick Williams Guerrilla Force la formazione resistenziale principale con il quale puoi dare vita alla Wig Force comandata poi dalla Lionel Wigram stesso. Quali sono le contraddizioni con quanto si conosceva tramite le fonti precedenti con queste nuove ricerche? Ma attraverso la comparazione tra le fonti governative britanniche e quelle italiane conservate presso il fondo Brigata Maiella dell'archivio di Stato di Chieti il primo dato è che il 5 dicembre 1943 non si è costituita attraverso l'autorizzazione o l'intermediazione di Wigram nessun corpo dei volontari della Maiella tutt'altro invece attraverso l'analisi dei War Diary del quarto battaglione paragadotisti del sesto battaglione Royal Welsh paragadotisti del secondo battaglione Royal Inniskilling Fusiliars e del sesto battaglione Royal West Kent Regiment che in poco più di un mese e mezzo si sono alternati sul settore di caso di Civitella Messerremondo quindi del San Groventino sappiamo invece come l'unità principale e l'unica insieme a per alcuni momenti a quella di Palombaro è stato il gruppo dei Patrioti di Civitella Messerremondo possiamo quindi dire anche grazie al documento scritto il 6 febbraio 1944 da Ettore Troilo che lo stesso Troilo così come anche altri protagonisti come lo stesso Domenico arriveranno in un momento successivo cioè alla fine quando la Wigforce si disgregherà dopo la morte di Wigram e quindi tutta quell'opera di fiducia reciproca tra italiani e patrioti italiani è stata diciamo voluta fortemente dal gruppo dei Patrioti di Civitella Messerremondo questa ricerca ovviamente proseguirà e porterà a nuovi sviluppi ma sicuramente nel senso risulterà difficile adesso approcciarsi a qualsiasi studio se non si considerano le fonti governative inglesi come anche quelle tedesche la storia fortunatamente può essere vista da un punto di vista multiprospettico e questo ci permetterà senz'altro di chiarire e quello è l'appello che ho fatto anche nel mio studio alla Comunità Scientifica Italiana i motivi per cui lo stesso Ettore Troilo è stato scelto al comando della Brigata Maiella il ruolo che ha ricevuto anche Domenico Troilo visto che di recente c'è stata anche una querelle sui quotidiani in modo tale di avere sempre un quadro più preciso e di ridare appunto una connotazione contestualizzata in quella che è stata la campagna militare alleata a questa straordinaria formazione della resistenza italiana anche la Brigata Maiella Costantino Di Sante storico tra i principali relatori di questo convegno che si è tenuto in diretta streaming che è stato molto interessante nuovi sviluppi nuovo valore anche ai patrioti provenienti da Civitella Messerraimondo Sicuramente a partire dallo studio di Francesco Di Cinchio da queste nuove fonti abbiamo la possibilità di articolare meglio quella che è stata la resistenza lungo la linea Gustav e immagino anche di avere uno sviluppo ulteriore di inquadrare meglio tutta l'evoluzione anche di quella che è stata diciamo anche l'epopea della Brigata Maiella partendo dall'Abruzzo quindi ritengo che ecco partendo da queste nuove fonti partendo dagli studi che ci sono stati negli ultimi anni sempre di più abbiamo un quadro più definito di quella che è stata la guerra la resistenza e anche il dopoguerra nel nostro Abruzzo appunto Potrà essere uno sviluppo coinvolgendo altri studiosi, altri fonti? Io credo di sì molto è stato fatto ma tanto c'è ancora da fare in particolare anche di quella che può essere una disseminazione diciamo si viene chiamata una public history coinvolgendo anche nel dibattito pubblico non solo studiosi ma anche quelli che sono appassionati ma penso anche alle scuole e segni di memoria il sindaco qui di Civitella Messerraimondo appunto dava notizia di questo percorso di segni di memoria lasciati durante il periodo della seconda guerra mondiale ritengo un fatto importante i tempi sono maturi e mi auguro che si investa sempre di più nella ricerca nella conoscenza nella possibilità appunto di nuovi studi rispetto a temi ancora da indagare o già indagati ma da approfondire Presente anche il primo cittadino Danilo Dorazio di Civitella Messerraimondo oggi ha questo interessante convegno che si è tenuto presso l'archivio di Stato di Chieti e nel quale attraverso le ricerche dello storico Francesco Di Cintio si è dato maggiore risalto alle attività dei patrioti nativi proprio di Civitella Messerraimondo si è rivalutato di molto il loro lavoro di combattenti contro le forze nazifasciste Sì, ringrazio il direttore dell'archivio di Stato Francesco Di Cintio e i partecipanti a questa piccola conversazione via web per anche il contributo che hanno dato rispetto al ruolo dei patrioti di Civitella Messerraimondo noi nel 2018 abbiamo ottenuto quella che è la medaglia d'oro al merito civile e diciamo che forse ne è balsa la pena per il lavoro che comunque è stato fatto negli anni il lavoro che è stato fatto anche dal consigliere Mario Masciantonio del Comune, quaduvato poi dal consigliere Adele Garzarella che è la delega alla cultura e ha portato a questo straordinario risultato oggi viene rimessa un po' in discussione quella che è la storia del nostro territorio però diciamo che questo è un altro tassello che si aggiunge a quella che è la conoscenza dei fatti che sono avvenuti in quegli anni dal 43 al 45 soprattutto agli inizi nel 43 nel dicembre-gennaio inizi dell'anno del 1944 in quel territorio del Sangro Aventino e ecco ripeto è un altro tassello di quel mosaico questo che si va ad aggiungere a quanto già fatto e a ribadire un ruolo di alcuni patrioti quelli di Civitella che hanno dato importanza poi a quel territorio e hanno contrastato quel nemico che diciamo invadeva il territorio del Sangro Aventino e oggi diciamo che gli è stato dato valore con questo convegno con questa riscoperta ovviamente ci sono ancora studi da fare e sicuramente questo aprirà in futuro ad altri convegni altre manifestazioni soprattutto studi che si devono fare soprattutto come diceva come si diceva nella conversazione anche con le fonti tedesche con l'importanza secondo me di oggi il fatto che le fonti abbiano dato particolare caratterizzazione a questa ricerca perché senza le fonti storiche scritte e comunque sicure possiamo scrivere quello che vogliamo però nel momento in cui c'è una fonte una fonte certo una fonte sicura i diari di guerra di un esercito penso che siano fondamentali per la scrittura e il ridisegno diciamo della storia ecco ripeto comunque serviranno anche altri studi comunque è un primo tassello questo a presenziare a questo convegno ristretto e trasmesso dalla nostra emittente in diretta streaming per consentire la fruibilità anche a coloro che erano interessati da casa era presente dicevo anche l'ex assessore alla cultura del comune di Casoli ex preside e tra l'altro attuale presidente dell'AMPI la sezione casolana Piera della Morgia che ha da sempre creduto a questi giovani storici Giuseppe Laurentini e oggi Francesco Di Cintio che ha presentato alcune ricerche molto interessanti grazie si dice bene Antonio ho seguito gli lavori e l'impegno nella ricerca di Francesco Di Cintio almeno negli ultimi quando meno negli ultimi sette anni infatti Francesco ha già prodotto altri lavori per caso lì abbiamo una mostra al castello sempre sulla brigata Maiella sulla vita di di Wegram e oggi grazie all'invito del direttore dell'archivio di Stato di Chieti anch'io ho partecipato a questo convegno nel corso del quale Francesco Laurentini ha presentato l'ultimo suo lavoro che consiste in un confronto attento tra le fonti finora disponibili per la ricostruzione della storia della brigata Maiella e quanto da lui potuto leggere accertare attraverso i war diari c'è tutto quel materiale i diari di guerra depositati nel war office britannico Lampi da parte sua che cosa fa in questo periodo la vostra sezione di Casoli Sì benissimo la sezione Ampi di Casoli si attiene in fondo a quelli che sono gli obiettivi per i quali Lampi è nata cioè valorizzare tutto quanto la resistenza ha fatto per la liberazione dell'Italia e questa valorizzazione non passa solo attraverso la partecipazione la commemorazione nelle varie ricorrenze ma passa soprattutto con un sostegno e una partecipazione a che si facciano sempre nuove ricerche e si possa sempre migliorare la conoscenza di quei periodi di quegli avvenimenti attraverso studi seri e scientificamente condotti e naturalmente noi di Casoli operiamo in particolare su un periodo ampio che va dal 40 al 45 perché in effetti la stessa attenzione la poniamo anche alle ricerche effettuate da Giuseppe Lorentini per quanto riguarda l'archivio storico di Casoli relativamente agli internati del campo di concentramento fascista di Casoli e anche su quel settore stiamo avendo dei buoni degli ottimi riscontri fino ad essere apprezzati anche all'estero da esperti studiosi ma anche di familiari che lentamente stanno ricostruendo la vita dei nonni dei genitori degli zii attraverso la scoperta dei fascicoli che parla dei loro parenti che erano stati a Casoli in questo campo di concentramento e di cui Giuseppe parla nei suoi lavori Il dottor Antonello De Benardinis è il direttore dell'archivio di Stato di Chieti che ha svolto un ruolo fondamentale per facilitare il lavoro di ricerca di Francesco Di Cintio con lei più che parlare del convegno che abbiamo ripreso integralmente e che quindi è molto fruibile attraverso i nostri canali web volevo parlare invece del ruolo che non è a tutti conosciuto che svolge l'archivio di Stato e in particolare quello di Chieti Sì non è stato un convegno è stata una conversazione e per di più l'abbiamo dovuto fare in forma statica e senza presenza di pubblico per tutte le norme anti-covid per quanto riguarda l'archivio di Stato di Chieti come tutti gli archivi di Stato d'Italia si conservano i documenti prodotti dagli uffici dell'amministrazione periferica dello Stato sia dello Stato unitario che dello Stato preunitario oltre a documentazione notarile documentazione proveniente da enti estinti documentazione proveniente da archivi privati l'accessibilità è uno dei problemi maggiori specie in questo periodo di covid l'archivio di Stato però a Chieti dal 18 di maggio ha riaperto regolarmente al pubblico e sia pur con ingressi contingentati quindi massimo tre utenti in contemporanei in sala di studio avendo ampliato l'orario per nove ore al giorno su quattro giorni si riesce a soddisfare un'utenza che a livello medio oscilla intorno alle 10 unità per giorno non è molto però è un qualcosa che si cerca di fare per venire incontro alle esigenze della ricerca umanistica purtroppo derubricata spesso a livello di divertissement laddove invece gli archivi costituiscono l'equivalente di quello che sono gli archivi e le biblioteche costituiscono l'equivalente di quello che sono i laboratori nell'ambito della ricerca medica piuttosto che nella biologia e quindi come i laboratori sono accessibili e sono stati accessibili anche durante il periodo di lockdown appunto per consentire alla ricerca di non fermarsi si cerca di fare lo stesso nell'ambito della ricerca a livello umanistico i percorsi di ricerca che poi si scoprono in archivio sono i più impensabili quasi viene a dire per l'eterogenesi dei fini si avvia una ricerca con un determinato ipotizzando un determinato percorso poi strada facendo l'analisi delle fonti porta a risultati inattesi e a percorsi completamente diversi questo è anche un po' il bello della ricerca in sé il materiale che è presente in questo archivio in quale periodo racchiude è anche materiale recente in continuo aggiornamento sì la documentazione parte dal tardo medioevo e procede essenzialmente periodo di età moderna le acquisizioni più recenti in particolare per quanto riguarda il versamento del genio civile e l'ultimo versamento della prefettura che riguarda il collado del cemento armato è proprio documentazione novecentesca documentazione della seconda metà del novecento che arriva per quanto riguarda entrambi i fondi che ho citato quindi la sismica la serie sismica del genio civile e il collado del cemento armato della prefettura si spingono fino a tutti gli anni settanta ed è di un'utilità incredibile non solo per chi fa ricerca di storia urbanistica perché si può vedere plasticamente la costruzione delle città che assumono il volto che hanno oggi quindi proprio col boom economico e il boom delle costruzioni che si è avuto in particolare negli anni sessanta ma è di incredibile attualità perché con i bonus venuti fuori con il 110% in particolare siamo presi quasi d'assalto verrebbe dire dagli ingegneri che cercano di recuperare i progetti originari e quando disponibili i calcoli del cemento armato per poter partire di lì e proporre progetti di rifunzionalizzazione delle strutture oppure di miglioramento sismico di miglioramento